No, secondo me è una idea strana sicuramente di base, però è particolare e secondo me può piacere molto più agli stranieri che agli italiani. Un po' troppo di olio secondo i miei gusti, però mi piace perché si sente distintamente sia il latte che l'olio. Poi non so come dire, sento distintamente due gusti però si mischiano e insieme fanno bere. Grazie a tutti.